buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la giornata daremo un'occhiata ai giornali il resto del carlino il corriere adriatico modo particolare per quanto riguarda le notizie di carattere locale ma intanto procediamo con il santo del giorno sfogliando l'almanacco e vediamo un santo particolare oggi lo vediamo qui nella grafica si chiama san folco scotti visse nel dodicesimo secolo ed era nato a piacenza a piacenza però con un'ascendenza molto molto particolare molto lontana infatti scotti allude un po agli scozzesi ma in realtà a quel tempo scozzesi chiamavano si venivano definiti gli irlandesi ecco perché scotti apparteneva ad una lontana famiglia di irlandesi fu vescovo di paria dove è sepolto e fu un grande pacificatore sia tra le famiglie che tra i cittadini stessi ed è appunto sepolto nel duomo di pavia insieme poi a pavia sappiamo ci sono tanti tanti altri santi compreso sant'agostino ebbene ora passiamo alle previsioni del tempo il tempo è variabile oggi su tutte le marche con maggiori schiarite sui settori interni nuvole basse lungo le coste specie nella prima mattinata i venti sulle coste ispirano con una tensione media da sud-este nell'interno debole da est e sud-este il mare è leggermente mosso le temperature 14 la minima 21 la massima il sole è sorto anzi sorgerà alle 7.43 e tramonterà alle 18.06 ciò detto apriamo il giornale vediamo l'apertura del Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ieri c'è stata la conferenza del venerdì ormai un consueto appuntamento della giunta con i giornalisti ebbene ieri il sindaco ha parlato ancora una volta dei disastri che stanno causando i ripetuti temporali che si riversano nel nostro territorio ebbene occorrono tanti tanti soldi per poi riparare i danni e l'amministrazione comunale ha messo a disposizione con un intervento di somma urgenza ben 400 mila euro per riuscire un po' a tamponare le ferite che il temporale che la pioggia la bomba d'acqua ha provocato nel nostro territorio in modo particolare a causa dell'esondazione dei fossi ma anche per lo stato precario di molte strade in modo particolare quelle bianche fossi 400 mila euro per opere urgenti ma l'acqua nei campi va canalizzata ebbene questa seconda parte del titolo che appare oggi sul Corriere Adriatico fa riferimento ad un appello lanciato ieri dal sindaco Luca Serfilippi agli agricoltori ebbene gli agricoltori sono tenuti nell'effettuare i lavori dei campi a realizzare anche i fossi in modo da poter canalizzare l'acqua e far sì che questa non dilavi impetuosamente dilagando poi coprendo le strade entrando negli scantinati delle case occorre dunque procedere secondo poi anche il regolamento di polizia rurale ad una canalizzazione attenta come si faceva una volta quando gli agricoltori avevano veramente cura dei fossi ora invece ha detto il sindaco si coltiva fino a 10 centimetri dal ciglio stradale e questo effettivamente non va bene ci sono molte strade il giornale ne riporta un elenco in stato veramente precario tra buche, avvallamenti, insomma dissesti che sono stati causati dalla intensa pioggia che è caduta nel nostro territorio e quindi si dovrà porre rimedio dunque 400 mila euro per la somma emergenza e poi sempre in questa conferenza stampa che si è svolta ieri ebbene il sindaco ha dato definitivamente addio ai 20 milioni che la regione doveva così dare al comune di Fano per realizzare un efficiente collegamento tra Fano e Pesaro in modo particolare tra Fano e Muraglia dove si dovrebbe realizzare questo tanto atteso ospedale ebbene una grossa perdita per la nostra città Fano non aveva mai avuto un contributo così ingente ovviamente il sindaco ha lanciato strali contro Fanesi e Minardi che sono un po' i due protagonisti di questa situazione quale vicepresidente del Consiglio regionale allora era riuscito ad avere questo finanziamento Fanesi doveva gestirlo addio ai 20 milioni per la strada a rischio i 2,5 per la biblioteca infatti questi soldi secondo la Giunta potevano essere dirottati per realizzare il progetto Cucinella della biblioteca federiciana invece niente da fare questi soldi non ci sono e cosa farà dunque l'amministrazione comunale? ebbene dall'altro giorno ha pubblicato un bando una richiesta così di sponsorizzazioni a livello nazionale magari anche internazionale per poter realizzare questo progetto che in realtà è un progetto molto molto bello lo vediamo qui ma questa fotografia è piccola non fa giustizia perché in realtà il progetto di Cucinella è suggestivo sia per l'ambientazione sia per le soluzioni tecniche che ha proposto però insomma tutto diventa ora nebuloso precario, opaco e chissà se si riuscirà a focalizzarlo passiamo ad altre notizie ebbene parliamo degli autovelox in modo particolare dell'autovelox di Cucurano ma parliamo anche quello di Metauriglia perché sono le stesse situazioni ebbene ieri mattina il giudice di pace di Fano Pericle Tagliariol ha colto il ricorso presentato tramite l'avvocato Luca Rodolfo Paolini ex deputato della Lega da un automobilista fanese contro l'autovelox di Cucurano l'automobilista era stato multato per 42 euro aveva superato di non più di 10 km il limite di velocità che tutti noi sappiamo è di 50 km all'ora questo limite di velocità è in vigore nel tratto urbano della Flaminia che attraversa Cucurano ha fatto ricorso ebbene il giudice gli ha dato regione quell'autovelox non è insomma regolare e quindi quelle multe non devono pagare si apre dunque una porta anche per tutti coloro che hanno avuto le multe e hanno fatto ricorso e questo insomma apre anche uno spiraglio per definire definitivamente quello che per definire scusate per definire quello che realmente è in questi impianti e da una parte vengono considerati irregolari dall'altra parte invece continuano ad essere usati a questo punto il Parlamento deve dire deve leggere deve esprimersi in maniera molto chiara affinché il problema si risolva a monte di tutto c'è l'esigenza che chi percorre quella strada deve andare a di sotto dei 50 km orari autovelox o non autovelox insomma bisogna rispettare per sicurezza quei limiti di velocità ne vale la vita delle persone ma al di là delle prediche e scusate se mi sono un pochino dilungato passiamo alle altre notizie e parliamo di un'altra zona pericolosa della città di Fano e Via della Colonna Via della Colonna è stato oggetto di tanti appelli da parte dei residenti verso l'amministrazione comunale affinché applichi dei dispositivi che inducano gli automobilisti a ridurre la velocità Via Colonna 40 anni di rinvii lettera appello indirizzata al sindaco il traffico qui è a rischio i 122 residenti di questa strada chiedono la messa in sicurezza della strada aperta nel 1984 per il Papa quando tutta la zona dell'aeroporto fu adibita ad un grande parcheggio per tutte le persone che vanevano a Fano per incontrare Papa Giovanni Paolo II da 40 anni i residenti di Via della Colonna chiedono misure per rendere più sicura questa strada che collega lo stadio Mancini con il campo d'aviazione incontri con gli amministratori comunali solleciti però non nulla è stato fatto esiste debbo dire un autovelox ma non si sa nemmeno se funziona insomma mette più paura che in realtà fa multe sono problemi irrisolti e quindi debbono essere posti all'attenzione dell'amministrazione comunale e sempre per quanto riguarda la sicurezza il sindaco Luca Serfilippi nell'annunciare l'incarico per il PUT il piano urbano del traffico ha anche detto che saranno rimossi i ristrengimenti in via della trave quei ristrengimenti che sono stati contestati tante volte dai residenti in quanto provocavano incidenti la gente cercava di passare ugualmente anche se il senso era unico alternato insomma c'erano dei problemi comunque secondo invece l'associazione ambientalista lupus in fabola sarebbe sbagliato il dietro fronte su via della trave quella era un dispositivo giusto secondo gli ambientalisti perché riduceva la velocità sappiamo che lì c'è anche la palestra della trave una palestra molto molto frequentata dai bambini e lì nei pressi c'è anche tutta la zona sportiva il circolo tennis la pista Marconi insomma sono gente molto molto è un luogo molto molto frequentato dalla gente quindi merita un dispositivo di calmierazione della velocità ma questo sarà rimosso e dopo tutti questi appelli alla prudenza alla sicurezza vediamo che si continua si continuano gli incidenti insomma questa volta abbiamo un incidente che si è verificato in una zona di via Falciraga si tratta di un'auto una panda di una 25enne che ha perso il controllo del proprio volante e ha provocato un incidente due automobilisti feriti in una drammatica carambola avvenuta ieri intorno alle 8 sulla strada provinciale 45 alla intersezione con via Falciraga ha avuto la peggio la conducente dell'Audi Aqua A3 una fanese di 65 anni che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro a codice rosso vuol dire che è piuttosto grave codice giallo invece per al volante per chi era al volante della panda di questa donna ed ora passiamo alle altre località passiamo a Fossombrone dove c'è una mostra interessante nel museo civico perché è ritornato l'idolino il dio Vertumno che fu scoperto nel XIX secolo nei pressi del Tarugo a Fossombrone e che è stato poi trasportato a Firenze ebbene è tornato a casa ebbè il sindaco Berloni dice speriamo che ci rimanga a casa nostra perché quello è uno dei simboli del nostro passato della nostra storia faremo di tutto per tenerlo ha detto il sindaco rinvenuta la statuetta 140 anni fa a Isola di Fano ebbene nel 1867 ha così illustrato ha evidenziato il professor May che è docente di archeologia dell'Università di Urbino una piena del torrente Tarugo affluente del Metauro mise allo scoperto nei pressi di Isola di Fano alcuni materiali in corrispondenza dell'argine ebbene i resoconti dell'epoca parlano di numerosi idoli di terracotta di 13 bronzetti molte monete votivi anatomici oggetti in piombo in ferro e pasta vita ebbene tutto questo materiale tutto queste risorse invece di costituire veramente un presidio della storia nella località furono venduti e furono dispersi un po' in tutti i musei dell'Europa furono andarono a Parigi un po' a Roma un po' anche a Firenze ebbene tornare era una stipe votiva ovviamente una stipe che era raccoglieva tutti quegli emblemi della religione di allora probabilmente lì c'era anche un tempietto ebbene questo bellissimo idolino di bronzo che è tornato a Fossombrone e che ricorda quella stipe dovrebbe tornare dovrebbe restare nella località metaurese al dia la Fiera del Tartufo qualità e sostenibilità ad Acqualagna ora si entra nel vivo la Ruscella d'Oro è stata attribuita al direttore del TG1 Chiocci alle 10.30 il via della 59esima Fiera Nazionale di Acqualagna del Tartufo Bianco il più pregiato siamo molto orgogliosi ad inaugurare la Fiera Nazionale commenta il Sindaco Pierluigi Grassi un evento di grande rilevanza in modo particolare rilevanza economica per quanto riguarda invece San Costanzo vediamo una buona notizia annunciata dal Sindaco Carboni la famosa rotatoria si farà si tratta di una infrastruttura posta all'incrocio ad un incrocio molto pericoloso tra l'Orcianense e la strada di Mondolfo applaudi anche la minoranza perché questa insomma è una infrastruttura desiderata da tutti in modo particolare per la sicurezza ed ora parliamo anche di un lutto purtroppo è venuto a mancare Simone Cianca Merla molto conosciuto a Mondavio faceva parte del gruppo storico di Mondavio quello della cacciata insomma della caccia al cinghiale che è uno dei punti di riferimento storico tradizionali di questo paese di questa frazione terre roveresche si è spento all'ospedale di Fossombrone all'età di 40 anni per una grave malattia aveva anche la passione del pugilato Tamburino balestriere spadaccino lascia la moglie i figli Francesco e Alessia il babbo la mamma insomma i parenti sconsolati per questa grave perdita i funerali verranno celebrati lunedì alle 9.30 nella chiesa di Santa Lucia di Piace vediamo anche delle notizie che riguardano Pesaro vediamo che l'apertura è dedicata a un problema di sicurezza stop ai bivacchi notturni nei condomini del centro nei condomini scusate nei condomini del centro il comune dice sì possiamo metterci anche i cancelli gli amministratori hanno incontrato i residenti soprattutto di via Luca della Robbia soprattutto per le segnalazioni di dubbie presenze e il rischio anche di spaccio di droga ebbene che cosa accade in diversi condomini della città in centro storico avvengono bivacchi vengono segnalati questi ultimi dai residenti in modo particolare anche dai commercianti nelle zone di piazzale Lazzarini piazzale Matteotti piazzale Primo Maggio e via Luca della Robbia di cui abbiamo riferito in piazzale Lazzarini nella zona ospedale del San Salvatore e via Luca della Robbia sono stati visti anche episodi di spaccio in piazzale Matteotti lunedì scorso all'alba si è consumata abbiamo visto anche nella rassegna stampa dei giorni scorsi questo episodio di violenza sessuale che è oggetto di diverse valutazioni tra i due protagonisti la donna dice che è stata usata violenza l'uomo dice che era consensuale perché era stata una prestazione retribuita ai comuni tagli da rapina in 4 anni 6 milioni in meno è un po' l'esito della finanziaria che lo Stato e il Governo si prepara ad approvare ebbene già in passato erano stati tolti 3 milioni al Comune di Pesaro adesso sembra che il taglio sia più sostanzioso infatti nel quadriennio 2025 e 2029 verranno a mancare 6 milioni e c'è insomma le rimostranze del sindaco Andrea Biancani e dell'assessore al bilancio Riccardo Pozzi Ricci il nostro uomo forte e non esiste un caso affidi è la reazione del partito democratico nei confronti a tutte le polemiche che sono sorte in questi ultimi tempi in merito agli affidi senza senza gare senza appalti insomma sappiamo benissimo quello che è avvenuto basta con gli interventi stilati in ordine sparso tra un segretario un gruppo consigliare e una maggioranza il PD tutto riunito e qua in questa foto vediamo i rappresentanti più significativi del partito che insomma iniziano un po' quella che si può considerare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali del 2025 e qui abbiamo un nuovo capitolo del delitto Bruzzese Bruzzese ucciso per vendetta vi ricordate l'episodio avvenuto qualche anno fa nel periodo di Natale a Pesaro scelta la vittima più vulnerabile si voleva veramente vendicarsi si voleva incidere profondamente tra clan rivali in 350 pagine le motivazioni dell'ergastolo per Rocco Versace ha pianificato il delitto di Natale tutto predisposto in precedenza vediamo ancora il problema della occupazione più occupati ma meno pagati 50.000 sono a rischio povertà l'allarme viene lanciato dall'Inps in modo particolare per la situazione della provincia di Pesaro Urbino presentando il rendiconto sociale un alto rischio di impoverimento per il 14% veramente la percentuale sostanziosa della popolazione della provincia a causa della scarsa qualità del lavoro l'Inps all'appuntamento con il consueto rendiconto che fa ogni anno fornisce i dati acquisiti nel 2023 e comparati sul resto della regione e anche a livello nazionale l'incontro si è svolto con un foltonumero di relatori si è svolto nella sala del consiglio comunale di Pesaro e ha registrato una vasta affluenza vediamo anche la notizia che ci giunge da Urbino violenza di genere e pregiudizio Leo il film un pugno nello stomaco ebbene c'è stato un ospite particolare dall'Ateneo Ducale ieri mattina era l'autore e regista Edoardo Leo che ha incontrato gli studenti di Urbino per parlare del suo ultimo film in uscita nelle sale cinematografiche il 14 settembre scorso non sono quello che sono è il titolo riprende l'otello di Shakespeare per riflettere su temi di grande attualità come l'inclusività la violenza di genere e il pregiudizio e allora passiamo ora al resto del Carlino dove vediamo un po' gli stessi argomenti l'apertura è dedicata al finanziamento dell'amministrazione comunale per i danni causati alle strutture del territorio all'assetto territoriale per il maltempo 400 mila euro a stanziarli la giunta per la sistemazione di strade e di fossi e poi abbiamo il ricorso contro il Velox di Cucurano ad annunciarlo l'avvocato Luca Rodolfo Paolini in prima linea nel contestare la regolarità delle multe elevate nel territorio comunale ma Luca Rodolfo Paolini ha così intrapreso questa battaglia anche a livello nazionale insomma è proprio un intento che lui ha perseguito da diverso tempo per cercare di eliminare tutti i problemi che vengono causati dalla diversa interpretazione della normativa in atto Pietra Tombale sui 20 milioni destinati alla strada di Gimarra Bando Comunale invece a caccia di Sponso per realizzare la nuova federiciana firmata a Cucinella ebbene abbiamo visto qual è il rapporto tra i 20 milioni della strada Fano Pesaro e la biblioteca federiciana si sapeva ormai che 20 milioni non c'erano più si sperava che questi 20 milioni potessero almeno in parte essere impiegati per realizzare il progetto Cucinella della federiciana ma in realtà salta sia la strada e al momento salta anche Cucinella per cui si cerca di recuperare ancora con questo bando in ricerca di sponsor però insomma la situazione è molto incerta abbiamo detto anche molto nebulosa settimana corta a scuola a fronte genitori spaccati a Marotta ci sono opinioni contrastanti sull'orario alla fa di Bruno abbiamo la sensazione che l'eventuale sabato libero sarebbe una vittoria per docenti e personale ATA più che per gli studenti ed era la stessa osservazione che il comitato genitori che si era costituito attorno alla scuola padalino l'anno scorso quando anche lì era stato introdotto era stato deciso di ricorrere alla settimana corta e beh insomma si pensava che questo era un provvedimento più a favore dei docenti e del personale che per i ragazzi ma ormai tutto si è assestato e i ragazzi con grande spirito di adattamento si sono resi disponibili vediamo anche quello che accade dal palo alliende più capiente i lavori sono quasi fatti tra poco assisteremo alle partite più in massa per quanto riguarda la smart system e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa io vi auguro un buon weekend e la rassegna stampa ritorna a Fano TV lunedì prossimo grazie per l'ascolto a risentirci a rispettaremo a rispettaremo